e 4 kg nella fase concentrica. Vediamo l'esercizio. Abbiamo impostato un feedback in velocità a 0,5 metri al secondo nella fase centrica che ci permette di raggiungere e mantenere la perfetta velocità di rientro durante la fase di salita dell'avambraccio e del braccio. Con il metodo elastico possiamo realizzare qualsiasi elastico noi vogliamo. Definiamo ad esempio la distanza del nostro elastico e supponiamo di voler eseguire un elastico inverso, caratteristiche che normalmente non troviamo nei comuni elastici. 7 kg all'inizio per arrivare a 3 kg e poi rientrare da 3 a 7 kg. L'esercizio in questione è simile ad una diagonale di cava. Iniziamo con il nostro esercizio. Partiremo con 7 kg per poi terminare con 3.